Benvenuti su Doom 3 ragazzi, qui è Arachiri e crediamo che possiamo mancare una marea di cubi. Ok, lascio di gustarla con schiaffetta. La Human Aerospace Corporation è la più grande entità corporativa esistente, originariamente impegnata solo in armamenti e in contratti di difesa, UR investe risorse anche in ricerche biologiche, esplorazione spaziale e altre attività scientifiche. Grazie a fondi limitati e alla possibilità di effettuare ricerche al di fuori di regole morali e legali, la UAC controlla le tecnologie più evolute mai concepite. Mi devono avermi un bicchiere di acqua e da dove posso finire il baffare, eh? Bene, Doom 3 è un gioco spara tutto, dovete uccidere tutto quello che si muove, una solita roba. Ops, scusate. Ah, 30 anni di agonina. Controllo Marte, qui Darkstar su 07063, passiamo a 38000. Lottiamo in alto a sinistra, Robo e il mio nome è... Ricevuto Darkstar, scendete a 2000 e contattate il controllo su 26972. Ricevuto, Torre. Sono sul radar, signore, atterreranno fra qualche istante. Eccellente. Fate venire il consigliere su al direttamente da me. Sì, signore. Torre, qui Darkstar, siamo in avvicinamento. Vi abbiamo acquisito Darkstar, è tutto pronto per l'attacco. Non posso credere che si sia chiuso a questo, non volevo venire qui. Non è la scelta scelta, vero? Ma questa è l'ultima volta. Vado stanco di fare il controllo danni ogni volta che combina un paio. Esatto, lei è il controllo. Se valerà, io sarò la distruzione. E sarà necessario. Petro mi dovrà iniziare a fare le cose a modo notico. Come meglio crede, consigliere? Ma va, come le cose? È un po' di... Ah, va! Ho bisogno che ti fermi su uno di quei quadrati rossi sul pavimento per una bioscansione. Chi vorrà? Non lo so dove sono, non vedo i miei piedi. Aspetta che lo attivo. Va bene, i miei piedi. No, per cazzo tu. Sono nuovi, farei perdere tempo a entrare. Ottimo, la tua occasione ha fatto, sei autorizzato a entrare. Ecco, sei una puttana arrogante. Ah, puttana arrogante. Puttana arrogante per i miei piedi. Ti dai il mantenuto a farsi. Questo impianto serve da nucleo centrale per tutti. Scusa, una volta? Puoi lasciare la borsa lì, la parola daire. Prima volta? Certo. Ok, ci sono alcune cose da segnalare. Questo è il tuo palmare, il PDA. Ah, divento meglio per accedere a tutte le zone promette. Divento vecchio! Se non c'è una nuova automatizzazione, questa verrà scaricata automaticamente. È importante e di non perdere il tempo. No, sì, sì. Vedo che il sergente Kelly ha richiesto la tua presenza in PDA. Vai direttamente al comando di me. È da quella parte. Segui i cartelli. Lascia. Scusa, non c'è una nuova automatizzazione. Ma il city è una struttura non più motore. Ma va! Scusa, è solamente nelle zone che si fa. Oh, Dio, mi dai il tuo robot? Oh, Dio. Oh. Ma sono qui, perché pare che tu sia un problema piuttosto serio. Oh, davvero? Devo ricordarle il rivoluzionario lavoro che stiamo portando avanti. No. No, signora. Ma sono stato autorizzato dal consiglio a comprare. Voglia la morte. Il consiglio l'ha autorizzata. Ma il consiglio non sa niente di scienza. Vuole solo qualcosa che faccia guadagnare più soldi. Un prodotto. Non si creò, avranno il loro prodotto. Dopo quanti incidenti? Mi dica, professore, perché tanti lavoratori si lamentano e richiedono il trasferimento da parte? Semplicemente non riescono a reggere questa vita. Sono esalti e stressati. Se avessi uno staff migliore e un budget più alto, si sarebbero potuti evitare questi piccoli incidenti. Ho paura che non otterrò altro fino a quando non farò rapporto al consiglio. Avrò bisogno di accedere a tutto, professor Bello, che è incluso a me. Non avrò difficoltà a farlo, vero? Ma va! Solo se si perde, squadra. Ma non mi stia fra i piedi. Resto qui, ne succederanno di tutti i colori. Anche Blue. Anche Blue? Anche Blue? Andiamo. L'hai classificato? Senti, amico, non hai ancora l'autorizzazione per questa zona. Cerca male. Non posso aiutarti, vai a comando dei mani. No, 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 no. Vedi per la caccura. Sì, mi ho visti arrivare anch'io. Bene, bene, bene. Attenzione, il professor Bradley ha rapporto nelle fisiche gestite. Per ritare la rapporto, anche il professor Bradley, non trovi al comando. Boahah liberated i testi Stai presa conto eh lì? S сыmparsi for invented Voglio che controlli il vecchio centro comunicazione Mi pare che sei andato da domani. Come cadere il passaggio di servizio sotto massimo? Ho programmato questa sentinella per guidarti fino all'ascensore. Seguila meglio di quanto hai fatto finora con gli ordini. Rendi dell'occupaggiamento alla sicurezza e fondo al corso dell'ascensore. Ah, quando lo trovi? Riportalo indietro. Non trovo. Ah, va. Non la fai. Mi chiami come Kelly McBean. Nelli. Non mi ricordo. Il posto di scendina è la soverissima dovevo andare. Che cazzo vuoi? Minchia la che ti fanno. Oh zio, dati le armi. Oh zio, dati le armi. Ah, dai. Ah, dai, dai. Attenzione a tutto il personale UAC. Sì, vuoi dare un po' più? Eh, ma io! Oh c'è. Occhio di volontari ai lavoratori dentro. E' un po' più che al vostro responsabile. E' un po' più che al vostro responsabile. E' un po' più che al vostro occupato. Sì. 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 Dai, ragazzi! Sto diventando vecchio! Quando è che inizio a stuprare le vecchiette? Oh zio, oh bella zio, bella, bella. Il posto meno eccitante su Marte. Prima di farti passare dovrai prendere un corpetto e mettere la sicura alla pistola. Sì. Ok, prendi la tua roba. Ora sei pronto a combattere. Ah, va. Fammi fare una prova della radio. Marsec, controllo radio. Eccellente, il segnale è buono. Sei stato assegnato al centro comunicazioni fuori servizio. Segui il passaggio principale attraverso il raccordo sotterraneo e poi fuori. Dovrai evacuare in fretta. Quale modo migliore di vedere la superficie di Marte che correrci sopra? Ok, sei pronto. Ok, non sparerò nessuno. Ehi, non vedo arrivare qualcuno da quella direzione da un po' di tempo. Benvenuto nelle segrete. Ora tu ti riapputato. Ehi! Vai cercando lo scelto. Vai cercando lo scelto. Vai cercando lo scelto. Grazie. 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 Ah. Sì. 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 Mi ricordo la strada. Prima sceglie! No! Viva, viva, viva! Viva, viva! Ma che la fattura? Sì! Viva! 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 Rapporto! Passo! Comando, spiegrato! Viva! Comando e due tre! Comando, qui squadra 4! Siamo bloccati dentro a Gatorgao! Un'intervista tra due! I generatori sono saltati nel sottolivetto! Funzionano solo i sistemi delle assenza di comporto vitale! Ma siamo voluti a trattare i segini! e' un disastro un po' di roma la natura il ma questo non l'ho ucciso prima il Siamo troppo ai fatti! Siamo troppo ai fatti! Cosa è quello? Ehi! Eh! Ma che cosa è che vieni uomini? Voi stai sento? Vieni! 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 Allora, vaiciatelo a te, vaiciatelo! Vaiciatelo a te farra dire! Dicono a te fargi di amare. Vaiciatelo a te farga! Vaiciatelo a te fara dire! E' che non dalle fottute pareti! Oh, c'è! Vabbè, vabbè! Opsi! Vieni, vieni, vieni! Escolta dai punti di parete! Braccio, ciao braccio! Oh! Quattro, quattro! Wow! Iep, 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 perceli merda! ... India, troppa precisione! ... ... ... ... 2 2 2 3 3 3 3 What the fuck? No, no, no! A dullare allora! Bene, deperta! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!